L'accertamento induttivo basato sugli studi di settore con forza di presunzione semplice dovrà sempre ed in ogni caso essere controvertito dal contribuente in sede di contraddittorio. Nell'ipotesi in cui il contribuente infatti ometta di presentarsi agli inviti posti dagli uffici finanziari non potrà far valere in caso di contenzioso delle argomentazioni differenti da quelle che siano necessarie al fine di smontare le risultanze dello strumento presuntivo. Grazie Grazie